Per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile occorre il contributo di tutte le componenti della società. Le imprese possono svolgere un ruolo importante, ma non solo perché è giusto. Certamente è giusto che le imprese non inquinino, che stiano attenti alle dinamiche sociali, però anche ora è giunto il momento in cui le imprese capiscono che può essere anche utile a loro, perché essere sostenibili vuol dire attirare nuovi consumatori, attirare talenti, rispondere all'esigenza anche di chi ci governa e di quelli che sono i regolatori. Quindi la novità è che anche le imprese possono dare un contributo a un mondo più sostenibile. A New York a settembre abbiamo l'incontro di SDSN e come Santa Chiara Lab porteremo queste testimonianze e parleremo di questi argomenti. Grazie a tutti.